Ai testimoni di Geova non è vietato andare a caccia per sfamarsi, ma se vanno a caccia per fame, secondo l'interpretazione che la Watchtower fa di Atti 15, non dovrebbero affatto mangiare la carne di selvaggina. Perché? Perché certamente non è stato possibile dissanguarla, se ci pensate bene. Infatti, per non mangiare la carne di selvaggina con il sangue, bisognerebbe sgozzare ancora vivo l'animale, cosa sicuramente impossibile con la selvaggina, dato che è il fucile che uccide l'animale e non lo sgozzamento. Quest'operazione, se fatta dopo la morte dell'animale, non può produrre alcun dissanguamento. Questo era solo un altro spunto di riflessione, per far riflettere sull'ipocrisia di chi della parte impedisce l'uso terapeutico del sangue, non c'è amore più grande di chi dà il sangue, vita per gli amici, e dall'altro lato mangia tranquillamente animali cacciati e quindi con il sangue, trasgredendo quindi la loro stessa interpretazione di Atti 15 del resto. Anche mangiando molluschi, ovviamente, si va contro questa interpretazione, perché il sangue in essi presente viene ovviamente ingerito. Avete mai provato a dissanguare una canocchia, un polipo, un dentice? Cioè, quello che i primi cristiani decisero di fare per rispetto alle norme alimentari di chi veniva dai giudei, per noi, e noi che ci frega, non andiamo incontro a nessuna trasgressione, nessuna mancanza di rispetto nei confronti di Dio, con tutta evidenza. A noi non serve più questo, che sappiamo che la vita appartiene a Dio e quello che loro facevano per rispetto a coloro che erano abituati a dissanguare, ormai non ha più senso. Ma anche Russell lo diceva questo, molti testimoni di Geova non sanno che Russell, questo l'aveva capito bene, lo ha scritto. Quando ovviamente fa comodo, meglio quando Russell è scomodo, poi si lascia volentieri in cantina. Attenzione, in cantina c'è il vino, eh? Grazie a tutti.